i racconti di masha mi sto guardando nello specchio piccolini miei wow sono davvero bella ma non tutti sono così fortunati ricordatevi che la bellezza è solo superficiale la vera bellezza viene da dentro la fiaba che sta per raccontarvi parla proprio di questo certamente c'è un pacchetto che deve essere consegnato con urgenza ci vediamo presto cricchetto è la cosa più assurda che abbia mai sentito cricchetto balliamo tutti la conga ti seguo rotta cricchetto 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 cricchetto